Daniele Colli, in molti ci hanno chiesto cos'è il tritello, lo vogliamo spiegare? Non lo so, è un termine che ho sentito da Riccardo Magrini quando diceva il veglione del tritello, penso che sia, non lo so, un veglione, quindi non ho idea, comunque è un'esplosione secondo me, ecco, ieri c'è stato, la Liguria si sapeva che fosse così e quindi ieri si è dimostrata tale, sono dei corridori che hanno perso il giro, qualcuno che ha perso energie come i corridori della Saxo, quindi insomma anche oggi forse è anche più dura, quindi ci sarà un'altra gara da affrontare, non si può perdere tempo, quindi saranno tutti concentrati, sia i big che quelli che proveranno a fare la tappa. Io prevedo che oggi sarà peggio di un tritello, sarà come finire dentro la centrifuga della lavatrice. Sì, oggi grazie per la speranza che mi dai, io proverò a difendermi, non so, i percorsi sono duri, ma in realtà poi sono i corridori che lo rendono tale, quindi cercherò di stare con qualche gruppo, sperando che sia il primo. Ma oggi però si arriva alla Spezia che è la città del vostro general manager, non è che avete studiato qualcosa a sorpresa per tentare di vincere a questa età? Ma studiato in realtà no, abbiamo fatto una visione del percorso, quindi conosciamo un pochino l'ultima salita, però prima ce ne sono altre tre o quattro, quindi diciamo che la Biasa che è l'ultima salita è l'ultimo dei problemi. Vedremo, Damiano abbiamo Cunico che sta pedalando bene, sarà lui oggi l'uomo faro, e speriamo di accompagnarlo fino all'ultima salita, cercare di prenderla davanti per provare a giocarsi i successi.